Grazie, molto gentile, non ce l'abbiamo nel repertorio, mi dispiace, sono cose troppo giovani, ok, allora cross castle è lo strumento principale dei boscaioli di una volta perché adesso hanno le motoseghe, prima si faceva tutto a mano, è peggio da questa, ne so altre eh sì perché il primo amore non si scorda mai lì, va beh, cross castle sarebbe, il segaccio, mambo, mambo, let's go mambo, ci dispiace ci hanno fatto delle richieste, certi pezzi ma non li abbiamo in repertorio per cui non li possiamo fare, li mettiamo, li mettiamo in mente per alla prossima volta, dai? One, two, one, yeah, go! è un paesino e un paesino Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti.